Allora bentornati. Negli ultimi dieci anni tecnologia e algoritmi hanno rivoluzionato la compravendita degli spazi pubblicitari. Secondo le ultime stime di un grande agenzia media come Densu, sull'andamento del mercato globale a fine 2023 quasi tre quarti di tutti gli investimenti digitali a livello mondiale saranno gestiti attraverso piattaforme programmatiche. Per capire come, a quale velocità e in quale direzione stia evolvendo questo settore abbiamo invitato oggi tre professionisti provenienti da tre differenti realtà. Do quindi il benvenuto ad Andrea Marcolin, Head Digital di Media Italia, Cesare Salvini, Chief Marketing and Media Officer di Grandi Stazioni Retail, e Giuseppe Ruggero, Client Success Manager di Mint. Direi che sul tavolo abbiamo molti temi ma tre sono fondamentali. Il primo riguarda le nuove soluzioni di targettizzazione alla luce della regolamentazione sempre più stringente in tema di privacy in vista dell'era cookie-less. La seconda è la necessità di rendere la filiera più trasparente, brand safe, verificabile e soprattutto meno soggetta a spreche e dispersioni che alcune ricerche stimano in quasi un quarto dei budget investiti. Infine lo sviluppo dei nuovi canali addressable che vede mezzi come la Connect TV, il Digital Audio, il Digital Autovome o il Gaming, promette lo stesso grado di precisione e sofisticazione nel buying e nella misurazione rispetto ai media full digital. Insomma, tanta carne al fuoco e solo 30, anzi ormai 28 minuti di tempo per discuterne. Allora, iniziamo da te Andrea Marcolin, Head of Digital Media Italia, che è anche il primo centro di media nato in Italia, quindi è un'expertise che ti autorizza a parlare a ragion veduta dell'evoluzione anche del programmatic e dei nuovi strumenti dedicati. Allora, come vedi tu questa evoluzione e quale anche contributo l'artificial intelligence può dare per rendere le comunicazioni, la programmazione, l'investimento in programmatic più efficace? Certo, certo. Se hai citato bene, noi nasciavamo ormai nel 1982, quindi 41 anni fa, anzi ancora prima c'era una sorta di ufficio mezzi dell'Armando Testa, poi quando nacque la televisione commerciale o la rivelazione dell'audience, diciamo che nacquero i centri media perché si necessitavano di professionalità più specifiche. Quindi siamo stati un po' testimoni di quello che è stata l'evoluzione del media advertising in Italia e ricordiamo bene quelle che erano le premesse e le promesse del programmatic allora. Diciamo che il programmatic nasce intorno agli anni 10 e nei 10 anni precedenti quello che succedeva è che un planner digitale non aveva grossi strumenti a disposizione, quindi il lavoro era abbastanza artigianale. Si sentivano i concessionari, si facevano delle valutazioni e poi si creavano i piani. Invece i nostri colleghi dell'offline avevano degli strumenti di pianificazione dove scegliere le rubriche nel modo più efficace e efficiente possibile. Per cui quella diventava una vera innovazione che però tutti quanti sapevamo che sarebbe arrivata. Perché? Perché si trattava di internet, perché già la borsa transava i titoli a livello telematico, perché lo spazio pubblicitario è un bene sostanzialmente fungibile e quindi era naturale che questo mercato, questa tecnologia sarebbe arrivata. E quindi però quando arrivò fu molto dirompente, perché come diciamo dal punto di vista dell'operation il planner digitale aveva uno strumento dove fare una valutazione degli spazi, dove comprare e dove avere in tempo reale i risultati per ottimizzare la campagna. Ma non solo, c'erano due grandi novità che il programmatic portava. Primo la possibilità di pianificare sul target che decidevo io, che fosse un target di prima parte, un target di terza parte comprato su un marketplace, però che costituiva un layer, un filtro su cui far convergere l'intera campagna per arrivare alla massima precisione e alla cosiddetta dispersione del zero. Poi c'era anche un'altra interessante funzione, questo per fare in modo che un po' ci si schiodasse dal solito budget della performance o di middle-lower funnel e cercare di conquistare quelli che erano i budget di awareness, dove si dicevano che è lì che ce ne sono i soldi veri, perché era la televisione che aveva i budget superiori. Ed era sostanzialmente una piccola levetta, una piccola manopola, su cui a parità di budget decidere se ottimizzare la frequenza e la copertura. Quindi in pratica una grandissima piattaforma su cui dominare l'intero processo della comunicazione digitale. All'epoca ovviamente si trattava solamente di mobile e di desktop, anzi prima desktop e poi mobile. La realtà poi fu leggermente diversa, al primo luogo perché quegli anni erano gli anni in cui nacquero i social network e queste società una volta stabilizzate, dal punto di vista economico e commerciale, decisero di avere le loro piattaforme, di creare le loro piattaforme. Quindi già subito quella piccola manopola di reach and frequency era uno strumento un po' spuntato, perché faceva riferimento solamente a una porzione del piano. Poi c'è anche da dire che la pubblicità programmatica, intesa in senso lato, ricomprende tutte le piattaforme. Addirittura anche il search è programmatico, perché è proprio una pubblicità che si può programmare. Poi però noi nell'accezione comune del nostro mercato, una cosa la chiamiamo search, un'altra la chiamiamo social e affidiamo al titolo programmatic solo la pubblicità transata sui siti editoriali. Ma la grande questione che secondo me c'è stata in quegli anni era un differente mindset tra il buyer e l'editore o il venditore della pubblicità. Perché il buyer diceva, bene io con il programmatic posso comprare quell'impression sul mio target in un bel contesto al costo più basso possibile. Invece l'editore diceva, no, tu compri quell'impression sul tuo target, sul mio contesto premium, la paghi alto, la paghi con un CPM premium, un CPM più elevato. Ecco, secondo me in questa distanza di due atteggiamenti diversi nascono tutta una serie di operatori, che siano software, che siano operatori editoriali, operatori di verifica, che in qualche modo complicano tantissimo questo panorama. Cominciamo dal fatto che, complice anche l'aumento degli investimenti pubblicitari, nascono nuovi editori, editori con una struttura di costi molto più snella, molto più... che quindi entrano sul mercato, ovviamente abbassando un po' i prezzi per poter essere competitivi. Poi nascono altri operatori assolutamente indipendenti dal mercato pubblicitario, chiamiamoli hacker, chiamiamoli come vogliamo, che creano questa situazione di frodo, dove a fronte di un investimento certo che gli advertiser pagano, le impression ai meno non sono reali. Fino ad arrivare alla situazione di oggi, i cosiddetti MFA, i cosiddetti siti made for advertising, ovvero operatori che in qualche modo catturano una visita con la tecnica del clickbaiting, pagandola il più basso possibile, fanno convergere il consumatore su un sito che è talmente zeppo di pubblicità, tale per cui la superficie totale della pubblicità è più grande della superficie editoriale, con evidente detrimento della qualità dei siti. Diciamo quindi che nel corso del tempo forse questa dinamica non si è vista troppo, perché nel frattempo l'investimento cresceva, però alcuni operatori, alcuni editori hanno cominciato a vedere dei fatturati per pagina vista leggermente in decrescita, pure in decrescita rispetto alle loro aspettative. E come dire, ci sono due cose che si possono fare quando o si aumentano le pagine viste, cosa più facile a dirsi che a farsi, vista anche la situazione dei gatekeeper dell'audience, quindi non è così facile, oppure banalmente si aumentano le posizioni pubblicitarie. Credo che tutti noi abbiamo in qualche modo sperito questa situazione, chi più chi meno, siti di più, siti editori meno, è qualcosa che il mercato di fatto traccia poco, non c'è una metrica di affollamento come invece in altri mezzi, in ATV per questioni di legge, oppure per altri mezzi con maggiore facilità, però in definitiva se ci pensiamo una metrica che lateralmente ci dà il senso di una diminuita qualità o di un aumentato affollamento, c'è solo l'impression viewable, la viewability. E se ci pensate in realtà però una volta al comparire del digital come mezzo pubblicitario, le impression del digital erano molto più forti come metrica rispetto al GRP. Il GRP si basava sul sistema campionario, quindi probabilistico, con un suo errore, e poi riguardavano l'opportunity to see, quindi è probabile che sia stato davanti allo schermo, è probabile che abbia visto... Senti, scusa se ti interromo, ma in tutta questa magmatica evoluzione il ruolo dell'artificial intelligence proprio per evitare sprechi, anche proprio di trasparenza, quale può essere? L'artificial intelligence si può innestare con tre dinamiche principali. La prima è una dinamica creativa che tutti noi stiamo conoscendo per cercare di avere in maniera scalabile e creatività sempre più efficace. La seconda è quella di, soprattutto in un periodo in cui ci sarà la scomparsa dei cookie di terza parte, cercare di trovare il nostro target in usura sempre maggiore. E poi un aspetto magari un po' più tecnico, perché nel momento in cui le aste diventano più di second price auction, dove si paga poco più del secondo, ma il first price, dove quindi si può spendere tendenzialmente anche dieci volte rispetto al secondo, queste tecnologie aiuteranno il buyer a comprare senza, come dire, a grave prezzo così forti. Grazie Andrea. Adesso continuiamo un po' a parlare di come padroneggiare e venire a capo di questa complessità così ben rappresentata da questo grafico. Lo facciamo con Giuseppe Ruggero, Client Sachs and Manager di Mint, che è una piattaforma di Advertising Automation. Anche questa è una nuova realtà, è arrivata sulla scena negli ultimissimi anni. Dicevamo, governare questa complessità è la vera sfida. Da un lato abbiamo visto la dispersione degli investimenti, dall'altra la capacità di leggere come vengono e dove vengono spesi per capire dove sono le dispersioni e quindi aumentare l'efficacia. Come fate voi a dare ai vostri clienti una rassicurazione, una certezza in questo senso? Anche se di certezza. Esatto. Innanzitutto cerchiamo, non noi nei confronti dei nostri clienti, ma diamo uno strumento ai clienti che permetta in primis di governare quello che sta accadendo. Prendo un assist che faceva Andrea della complessità che si sta generando. Questo chiaramente è una complessità che va in due direzioni, va nella direzione del ecosistema tecnologico, molti attori sempre più coinvolti nella panoramica del programmatic, dell'advertising, delle tecnologie. Tre quarti degli investimenti, dicevi poco fa nel 2023, si stimano andranno in quella direzione. Dall'altro lato è in questa complessità di strumenti come permettiamo ai clienti di governare quello che sta accadendo, ma anche avere trasparenza, riuscire a leggere, banalmente interpretare i risultati, quello che stanno investendo e avere poi dei segnali, prendere decisioni strategiche. Non solo dal punto di vista media, chiaramente supportiamo, proviamo a supportare col nostro software a 360 gradi, perché chiaramente il digitale italiano è un ecosistema complesso. Un ecosistema complesso chiaramente dove ci sono dei momenti chiave, che sono, se vogliamo parlare, di campagne, di advertising, di programmatic o di campaign journey, nel senso più ampio, dove si collegano diversi tool, diverse tecnologie, piattaforme, sentivamo poco fa anche frammentazione. C'era la necessità di collegare quello che accade a livello informatico, quello che accade sul paid, quello che accade su Ion. Ecco che il nostro software va in quella direzione. Abbiamo identificato all'interno del software, quindi si riprendono dei moduli dedicati ad ogni step chiave che si riprende poi quando si parla di attivazione digitale, ma supportando anche la possibilità di collegare intorno a questi moduli strumenti, piattaforme, tecnologie che alimentano tutto il resto. Banalmente si parla di creatività. Colleghiamo strumenti, software che alimentano anche quella parte di insight, non solo quindi il paid, le impression erogate, ma anche tutta la parte più di intelligence e di insights vera e propria. Come lo facciamo? Chiaramente riprendiamo questi moduli all'interno della piattaforma. Gli utenti, i clienti che ricevono responsabilità chiaramente anche del team in cui lavoro oggi è proprio di supportare i clienti anche a un certo change management. Nel senso, devono usare dei tool nuovi a supporto di una miglior lettura, interpretazione dei risultati, mettendo al tavolo, facendo dialogare, agenzie e anche, che chiaramente supportano per gran parte delle attività di operation, e clienti che chiaramente devono probabilmente interpretare in maniera nuova tutto quello che sta accadendo. La complessità dell'ocosistema, gli investimenti in digitale che aumentano sempre di più e una complessità sempre maggiore che quindi crea dispersione. Crea dispersione e chiaramente cerchiamo di evitare lo spreco di risorse economiche quando si parla di digitale. Lo colleghiamo all'interno di un software, quindi un software che via, diciamo prevalentemente, via API, e anche dove è possibile, si riesce ad agganciare anche a sistemi interni, quindi quando si parla di owned media, quindi anche di sistemi che danno altri segnali, perché chiaramente sono coinvolte più business unit all'interno della stessa divisione marketing, perché chiaramente marketing si parla in senso ampio, ma c'è il media, c'è la parte creativa, c'è chi fornisce insight perché magari fa la parte strategica. Quindi in quest'ottica un software che collega le fonti dati da i canali, quindi i social, i programmatic, che ne è un di cui sicuramente molto importante che vede una grossa fetta degli investimenti, anche tutte le parti, tutti gli elementi più strategici, CRM, Insight, Analytics, AdServer, tutto quello che va a completare l'ecosistema, chiaramente nell'ottica di dare maggiore visibilità e trasparenza. Cosa facciamo? Chiaramente dobbiamo essere un software in grado di sederci al tavolo e dialogare con tutte le parti che contribuiscono oggi. Clienti e agenzie si trovano oggi con quello che è uno scheletro centrale, quindi quello che vediamo è ripercorre dalla strategia allo scheduling, all'attivazione, ai deal con le concessionarie che vengono fatte tramite piattaforma, connettiamo, colleghiamo questi sistemi fino a poi contribuire nella parte di reporting unendo l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale quindi che cosa fa? Permette da un lato i clienti di interpretare, leggere quello che stanno generando, performance, piuttosto che investimenti da condividere poi al CMO, CFO, insomma tutte le parti che comprendono si siedono al tavolo ma dall'altro lato anche con un occhio, un grande occhio di riguardo a quelli che oggi svolgono una grossa parte delle operation per i clienti quando si parla di investimenti. Quindi le agenzie media che oggi chiaramente ci supportano molto perché ogni cliente ha le sue esigenze quando si parla di media, non c'è una standard, una best practice condivisa, ci sono tante tante differenti sfumature ecco che quindi il software va a proporsi in quella direzione. Quindi dare un contesto, un ambiente dove l'intelligenza artificiale, le automation e la velocità di reperire quelle informazioni si traduce in una miglior diciamo opportunità per i clienti che quindi hanno un ambiente trasparente, chiaro, creato insieme all'agenzia con la quale spendono gran parte della giornata di lavoro quando si parla di advertising e quindi connettendo più elementi, tecnologie e partner piattaforme all'interno del sistema digitale a cui sono sedute e l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale fa gran parte del nostro software sicuramente oggi se ne deve parlare sempre di più noi con Mint e l'ARM che chiaramente ha creato una nuova categoria di strumenti chiamiamo Advertising Resource Management appunto perché come dicevo poco fa collegando questo ecosistema complesso permette poi di interpretare meglio i risultati interpretare perché chiaramente la macchina sarà sempre il pilota di questa macchina sarà sempre l'agenzia o il cliente il cliente in primis che ha una miglior lettura dei risultati. Bene grazie molto interessante non facile quella materia però abbiamo capito che insomma c'è in corso un'evoluzione e ci sono a disposizione degli strumenti che possono rendere il tutto più comprensibile e gestibile. Cesare Salvini si è stato tirato in ballo dalla precedente Tauro Rotonda come un mezzo che sta riconquistando le posizioni che aveva pre-pandemia anzi secondo me le avete pure abbondantemente superate proprio perché come emergeva dalla ricerca soprattutto Cantar la gente ha bisogno di andare fuori all'aperto viaggiare muoversi e avere quell'esperienza fisica che un po' gli anni della pandemia ci hanno tolto e proprio per questo per intercettare le nuove abitudini i nuovi bisogni i momenti giusti per l'acquisto dei consumatori che voi siete stati come grandi stazioni retail e forse tra i primi nell'auto l'auto home a inserire il programmatic insomma a fare sperimenti di programmatic nel digital auto home ecco ci spieghi un po' come è iniziato questo percorso e con quali ritmi cresce anche questa tendenza e se ci sono ancora delle potenzialità di sviluppo come immagino ci siano certo grazie Salvatore effettivamente sì noi siamo stati contraddistinti dall'innovazione che ci guida sempre i primi nel 2017 a introdurre grazie anche a Pladway che era l'operatore di riferimento il programmatic nel digital auto home programmatic che però ci tengo a sottolineare è un concetto leggermente diverso dal programmatic che abbiamo visto fino adesso parte dal presupposto che naturalmente esistono gli impianti digitali e parte dal presupposto che ci sia una piattaforma di compravendita in una modalità diversa della fruizione pubblicitaria cioè si passa dalla tradizionale vendita di spazi a tempo per settimane per giorni per mesi a invece la vendita delle visualizzazioni quindi essenzialmente stiamo dicendo che stiamo dicendo che esiste una piattaforma di acquisto e una piattaforma di vendita in cui il venditore cioè noi mettiamo a disposizione di chi compra una serie di impianti che vengono qualificati secondo la quantità di visualizzazione quindi si presuppone una modalità di misurazione di ciò che si vende e in questo caso le OTS quindi grazie a dei sistemi sofisticati nel nostro caso abbiamo montato già nel 2013 2014 oltre agli impianti digitali anche le videocamere e il software che rileva la presenza davanti all'impianto pubblicitario nel rispetto della privacy dell'individuo sono dati aggregati e dall'altra parte c'è una piattaforma di acquisto in cui il cliente si siede o direttamente o grazie a un centro media per acquistare gli spazi che desidera dove li desidera e nelle modalità che desidera ma la grande differenza è che non compra se non lo vuole una settimana o due settimane l'impianto ma compra il numero di visualizzazioni che l'impianto offre questo in maniera assolutamente trasparente ci tengo a sottolinearlo perché questo è uno degli argomenti che abbiamo oggi giustamente mi dicevi ma questo poi nel tempo visto che è diverso dalla modalità di programmatica che abbiamo visto poco fa come si sta evolvendo e come si è evoluto allora nel frattempo sono arrivati nuovi operatori sul mercato perché l'idea è di avvicinarsi alla modalità targettizzata e quindi di passare da un'erogazione chiamiamola semplice anche se semplice non è di OTS quindi di visualizzazione degli impianti è un'erogazione targettizzata che cioè prende in considerazione chi e quando sta nel luogo in cui si trasmette le immagini pubblicitarie questo l'operatore a cui mi riferisco è Hivestack che ha adottato dei criteri di valutazione qualitativi che adesso stanno adottando anche altri ovviamente nel luogo di erogazione quindi anche utilizzando dei dati legati al digital mobile ma anche semplicemente i dati che raccoglie la videocamera in questo modo si riesce a creare una erogazione che è più scusate una modalità di vendita di compravendita che è più simile al programmatic tradizionale voglio aggiungere che l'ingresso di Google ha spostato o sta spostando questa modalità anche verso il mondo digital chiamiamolo tradizionale se mi consentite per distinguerlo dal digital auto home perché la piattaforma non è più la piattaforma proprietaria di Pladway ma è una piattaforma di Google quindi il cliente può agire direttamente su la piattaforma Google e questo apre un mondo completamente diverso nella modalità di acquisto ed erogazione del programmatic dall'altra parte noi stiamo continuando ad andare avanti perché stiamo andando oltre il digital auto home siamo entrati nel mondo della televisione attraverso il LAN che si acquista e si eroga attraverso Google anche qui e di fatto consente e questo è un'altra grande area di evoluzione di sviluppo del programmatic di entrare nel mondo digital anche qui scusate il termine più tradizionale il digital di cui si parlava prima che una volta era solo desktop e mobile oggi è una modalità mista qui stiamo parlando di LAN che è televisione ma televisione connessa televisione advanced e così via ed è una modalità che consente alla tv generalista di entrare in stazione attraverso però Google quindi è un mondo che ormai si va fondendo in una logica di contatto diretto con il cliente che aiuta un po' il tema che hai introdotto tu all'inizio cioè il fatto che il mondo cookieless abbia più difficoltà a intercettare in maniera trasparente e utile il fenomeno cioè il contatto con una persona un contatto one to one quindi è un'evoluzione del mondo digital out of home che era un mondo one to many che sta andando nella direzione del one to one che è appunto la logica programmatica da cui siamo partiti all'inizio di questa breve chiacchierata ed è una logica che ha portato ad avere realmente questo è un esempio di un cliente di poche settimane fa che ha investito in maniera completamente multicanale all'interno della stazione quindi in basso a destra potete notare un impianto tradizionale in alto a sinistra c'è il laner che è invece la forma di espressione più evoluta passando attraverso contatti con il mobile o digital out of home più o meno tradizionale questo per dimostrare che alla fine stiamo andando in una direzione in cui il contatto con il singolo individuo viene assicurato in una modalità molto più vicina al one to one di quanto non si potesse intendere l'out of home solo dieci anni fa insomma certo grazie Cesare molto interessante anche perché abbiamo parlato di esempi pratici e concreti io vorrei chiudere questa tavola rotonda con dei suggerimenti che secondo voi vi sentite di dare per rendere la relazione tra committente tecnologia e consumatore più virtuosa possibile cioè quali sono i punti i nodi veri da sciogliere perché si possa arrivare a una reale efficacia nel raggiungere il target con il giusto messaggio nel momento giusto ma guarda mi collegherei a quello che dicevo prima e a quello che si diceva anche prima rispetto ai territori dell'invasibilità e del ricordo quindi più invasività meno efficacia meno ricordo i canali come il digital auto home e la televisione connessa in qualche modo hanno già in sé delle regole di affollamento o di necessità di autorizzazione per evitare la ultra proliferazione di contatti tali da rendere il contatto meno significativo quindi i nuovi canali hanno già in sé la risoluzione del problema i canali digitali tradizionali come stavo chiamando prima paradossalmente Cesare invece hanno bisogno di secondo noi di un commitment diverso tra il venditore e l'acquirente tra il brand e l'editore questo perché bisogna secondo noi arrivare a in qualche modo togliere quell'estrema attenzione che c'è verso il costo sempre più basso perché il costo sempre più basso porterà sempre a una qualità più bassa se penso a grandi stazioni non credo che la posizione centrale in altro quella fronte binari non si compri perché costa troppo e si dica no vabbè allora compro la comunale perché c'è una diretta percezione della qualità e del costo sul desktop o sul mobile a volte c'è una talmente tanta distanza tra quello che io compro in maniera molto elettronica e programmatica e quello che poi realmente accade che si innestano questi fenomeni in cui il prezzo deve scendere sempre di più ripeto come dicevo prima a detrimento dell'intera qualità del piano quindi bisognerebbe un po' recuperare quello che è il rapporto sano tra editore e advertiser per far crescere la qualità delle pianificazioni bene grazie Andrea invece Giuseppe tu cosa ti sentiresti di suggerire io penso che è molto corretto quello che dicevamo poco fa sulla qualità per dare qualità chiaramente bisognerà andare sempre di più in una direzione di fornire qualcosa tailor made e l'utilizzo della tecnologia deve necessariamente supportare aiutare nel futuro ma già lo stiamo vedendo con tanti software che aiutano tante piattaforme che aiutano ad orchestrare c'è tutta questa dispersione tutti questi strumenti che chiaramente sono delle fonti dati preziose perché l'investimento non ho fatto la fissione non ho investito in dei formati impattanti effetto wow per nulla devono permettere di capitalizzare quindi riuscire a dare un contesto in cui quello che ho fatto l'investimento che ho fatto è sicuramente interpretabile orchestrabile all'interno di un ecosistema che è sempre più complesso con tutti tu la disposizione grazie Giuseppe concludiamo con te Cesare suggerimenti consigli a dare al mercato mi piace la parola qualità ed è un contesto un concetto che per noi è assolutamente fondamentale anche se in una logica leggermente diversa per noi la qualità e il contesto riguarda colui che fruisce dei contenuti quindi il visitatore di stazione in questo caso che è il fruittore della pubblicità noi stiamo andando un po' nella direzione apposta cioè di fornire degli elementi di benessere e di comfort al viaggiatore quindi stiamo introducendo contenuti televisivi stiamo introducendo contenuti culturali che sono che portano il visitatore ad essere più rilassato più contento di stare in stazione migliorare la sua vita è più recettivo nei confronti della pubblicità un po' quello che faceva la televisione una volta con Carosello ma il concetto di qualità è fondante nello sviluppo al di là della tecnologia ovviamente dell'innovazione bene grazie Cese grazie a tutti i relatori Andrea e Giuseppe il tempo per questa tavola rotonda è finito grazie appunto ai relatori per gli spunti che ci hanno fornito e l'invito a chi è in ascolto è quello di non perdere il prossimo panel dove ci occuperemo di un altro settore che sta diventando sempre più importante nello scenario digital ossia quello del retail media noi ci rivedremo più tardi buon proseguimento a presto watch me dance dance the night away my heart could be burning but you won't see it on my face watch me I could dance I could dance I could dance dance the night lascia mi becode Grazie.